Quella S sta per, non so, a caso, oppure... Quale S? Quale S? Quella che c'è qui sul petto, è... No! Ma dai, ma Matteo, ma non me ne ero accorto nemmeno io! Ma dove guardi? Ma scusami! Dai, Matteo, ma dai, ma perché devi farmi passare questi messaggi? Dai! Bruttissimo! Scusami, la collana è bellissima, la collana. Dai, non me ne ero accorto nemmeno io! È una collana bellissima. Non me ne ero neanche accorto. Dai, Damon, di qualcosa. Sì, vabbè, Damon ha visto anche la forma del capezzo, come lo conosceva. Quella, quella da prima, quella sul collo, qua. Ah! Questa è la Bershka. No, bruttissimo, bruttissimo. Mi piace, dove l'hai comprata? Bershka. Bershka. Si vede? A caso. Bershka. Bella, mi piace, mi piace Bershka, sai? Io ci andavo a comprare i vestiti a Bershka. Bella, per la lei di giorno. Eh, vendono vestiti. Grazie, GioGioz. Grazie, mi trovi. Lo so.